Buonasera, 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 grazie, grazie a tutti. Chissà se va, chissà se va, chissà se va, se va, ma sì che va, ma sì che va, ma sì che va, se va, e se va, se va, se va, tutto cambierà. Forza ragazzi spazzola e chi mi fermerà, chissà se va, chissà se va, chissà se va, se va, ma sì che va, ma sì che va, ma sì che va, che va, se non va, non va, non va, c'è una novità. Sai quanto me ne importa, che me ne importa a me, per una che va storta, una drittaccia, il brodo è tanto buono, va, se non c'è il prezzemolo, ma che sapore ha, la vita è tanto bella, va. Se non ci sta il coraggio, non è saporita, senza un po' di guai, meglio capita un dolore che non trovarci mai. E stare per me non si può, mi butto nella mischia, sentitemi un po', 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 po'. Chissà se va, chissà se va, chissà se va, ma sì che va, ma sì che va, ma sì che va, ma sì che va, e se va, se va, se va, tutto cambierà, forza ragazzi spazzola e chi mi fermerà. Chissà se va, chissà se va, chissà se va, se va, ma sì che va, ma sì che va, se va, se va, non va, non va, non va, c'è una novità, sai quanto me ne importa, che me ne importa a me, per una che va storta, una drittaccia, il brodo è tanto buono, va, se non c'è il prezzemolo, ma che sapore ha, la vita è tanto buono. Mi sa bella, ma se non c'è il prezzemolo, beh, non è saporita, senza un po' di guai, meglio un papito in denulove che non provarci mai, restare per lì non si può, mi butto nella mischia. Chissà se va. Claudio! Claudio! Claudio Maglioni! Che parole bellissime! Maestri! Presentiamo l'orchestra! Allora, qui abbiamo il maestro Paolo Costa al basso. Il maestro Paolo Costa al basso. Esattamente dietro il maestro Walter Zavelli. Al centro il maestro Gavin Harrison. Davanti il maestro Paolo Gianoglio. Che cazano! . . . Grazie.